Francesca, che partita è stata? Come l'hai vista? Come ho detto già a due colleghe, io sono veramente soddisfatta. L'unica cosa ovviamente è il risultato che è stato determinato per me da un episodio. Niente di assolutamente di perluso, per me la partita di ritorno si apriva solo 0-0 e spero che ci sia lo stesso spettacolo che ci sia da oggi. Di solito non sei mai soddisfatta delle tue ragazze? Quest'oggi cosa puoi ricriminare? Assolutamente niente. Dicevo al tuo collega, loro hanno un muro in porta e questo sicuramente è un grandissimo vantaggio. Le mie ce l'hanno messa tutta, hanno giocato secondo me un ottimo faccio a 5 e io non posso restare in senso. A Pala Roma è difficile passare, come imposterai la partita? Come pensi di giocarla? La domanda era 100 miliardi di dollari, non lo so, ma non perché non te lo voglio dire ma perché non è il mio proprio uso, soprattutto dopo la partita appena finita. ho detto alle ragazze che la nostra vera partita ricomincia tra una settimana e sono sicura che hanno raccolto il mio invito, il mio incitamento e soprattutto oggi ho detto loro brave perché hanno fatto una grandissima partita che mi rende molto felice. Grazie Francesca. Grazie.